Geni Colacione per LibriTV, oggi 19 novembre 2016, siamo qui inviati in qualche modo in una riunione del direttivo delle cantiere di cui Claudia Corinna Benedetti che è qui con noi fa parte di questo direttivo di questa associazione di cultura politica che conosciamo, che abbiamo seguito spesso con Pierpaolo Signeri che oggi peraltro celebra la forma cartacea, la versione cartacea del romanzo che abbiamo presentato più di una volta in che mondo viviamo, il romanzo cosmico di Pierpaolo Signeri. Però intorno a questo libro in qualche modo si incentra un progetto politico e anche un'attività in senso più vasto del cantiere appunto del cui direttivo fa parte anche Claudia Corinna Benedetti. Certo, è un piacere in effetti far parte di questa associazione appunto di cultura politica perché ritengo proprio che in questo momento si abbia una grande e forte necessità di un cambiamento ma che è un cambiamento profondo e culturale soprattutto. Ecco, quello che mi è piaciuto proprio non solo dello statuto detta le linee e quelli che sono gli obiettivi del cantiere è proprio questo fermento costante, continuo di idee che grazie non solo al direttivo, ai componenti ma soprattutto al presidente e coordinatore, quindi parlo anche di Pierpaolo Signeri che tra l'altro appunto è stato l'autore di questo libro, in che mondo viviamo ed è proprio questo, quasi uno sprone, in che mondo viviamo è un quesito, è un grande contenuto parte da quella che può essere una visione che può apparire anche così fantasiosa ma che poi poggia le sue basi su una grande realtà di fondo e quindi il fascino anche di questo libro è il poterlo coniugare con quello che poi nel cantiere questi corsari stanno portando avanti come se veramente fosse la partenza di un grande galeone che va verso un mare ma che non è ignoto perché a questo punto si vuole veramente cercare altro questo altro che sia, chiaramente, che poggia le sue basi sulla grande libertà ma soprattutto sui contenuti, su una grande capacità quindi di costruire e di essere artefici del nostro futuro tutto questo non può, ecco, prescindere da quella che è il credere profondamente in quelli che sono gli obiettivi del cantiere nella ricerca continua e costante di un campo altro e in questo c'è molto perché oggi la politica si è arrenata e invece il galeone del cantiere e quindi questi corsari vogliono veramente andare verso mari sempre più anche se tempestosi ma con la capacità e la grinta di riuscire a dare qualche cosa di nuovo ma con profondi contenuti culturali, politici, di lealtà, di trasparenza ma di grande professionalità ecco, questo è un valore veramente aggiunto che io ho trovato non solo nel presidente che Pierpaolo è stato anche presidente oggi Camilla Nata che è presidente ma anche dei componenti, il direttivo e tutti coloro che ritengono di abbracciare questa grande sfida che è qualcosa di meglio Sì, la metafora, diciamo, piratesca se cos'è, dei corsari anche perché piratesca dei corsari è stata utilizzata spesso da Pierpaolo peraltro in un videino di qualche settimana fa con cui convocava tutti quanti i membri e i componenti e dunque, entriamo un po' più nello specifico il cantiere si, in qualche modo, nella sua elaborazione intellettuale si confronta con il mondo presente e un po' anche questo romanzo in che mondo viviamo richiamo un pochino anche alla risposta ecco, se lo mettiamo in forma di domanda cerchiamo anche, penso che il cantiere cerchi di dare una risposta a questa domanda in che mondo viviamo, come affrontarlo e il cantiere, in qualche modo, è attivo con la sua produzione intellettuale e politica perché la politica è cultura con delle risposte e delle iniziative proprio per quanto riguarda l'attualità purtroppo spesso anche triste e drammatica che riguarda la necessità della difesa di diritti in questo caso parliamo delle donne certamente, in effetti, guardi che in occasione proprio della giornata mondiale contro la violenza di genere quindi verso le donne il cantiere, assieme all'osservatorio nazionale permanente sulla sicurezza e ad un altro progetto che si realizzerà a Viterbo e che già sta portando i suoi frutti sarà non solo partecipe ma anche vedrà relatori componenti del direttivo stesso del cantiere oltre ovviamente alla presidente Camilla Nata in un convegno proprio a tutela della dignità e della salute psicofisica della donna proprio in occasione di questo anniversario ai noi che è stata dichiarata giornata mondiale contro la violenza delle donne ben comprendendo che non è certo un giorno quello che sarà sufficiente per frenare questa violenza tremenda che oggi viene definito femminicidio che altro non è che omicidio di donne e quindi proprio in linea con quelli che sono gli obiettivi del cantiere si parla di tentare di contribuire ad un modello mentale e culturale che partendo dal rispetto dell'altro in quanto tale porti ovviamente al rispetto in particolare delle donne quindi questo convegno vedrà il cantiere presente anche con esimi relatori e non sarà solo un evento anche perché noi abbiamo fatto altri eventi sempre con il cantiere dove abbiamo parlato proprio di quella che è l'importanza di un modello culturale che vada verso il rispetto proprio dell'altro ribadisco in quanto tale quindi sia esso donna uomano ma questo non può prescindere da quello che deve essere l'esempio soprattutto all'interno della famiglia quindi questo coniugarsi con le scuole tenga presente che questo convegno che faremo il 26 a Viterbo alla biblioteca consorziale ha visto il consiglio dell'ordine degli avvocati a concedere dei crediti formativi validi per la formazione professionale degli avvocati quindi diciamo che il cantiere esce anche dall'ambito diciamo della sua attività di cultura politica per entrare in quella che è la vita sociale che vede nel femminicidio purtroppo una recrudescenza di un fenomeno tremendo che bisogna in qualche modo frenare bene, il cantiere quindi non autoreferenziale ringraziamo Claudia Corina Benedetti e in bocca al lupo per questa iniziativa grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti